Catwoman ha distrutto Grid! Grazie per aver versato al mio doppio. L'energia d'emergenza è attiva. Abbiamo finito ragazzi, vi saluto. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Speriamo che vi siano piaciute queste scelte alternative del settimo capitolo della modalità storia di Injustice 2. Catwoman ha eliminato Grid, il doppio di Cyborg. Grazie per aver guardato il nostro canale.